buongiorno posso controllare la nuova se c'è un articolo però veloce tanto dopo non lo compro è abituato mi chiedo come mai vediamo un po no 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 non è quello che cercavo io ma è una sorpresa ci sono c'è lei cioè io non vabbè lei cioè io io lei noi bipolarismi mi dico io dico io mi dice lei cosa sono tutte meta v e a e quelle che dico interessante però ne prendo dieci copie come ma ne hai già comprate tu dieci copie mi spiace posso comprare solo l'articolo però 10 centesimi un po vabbè quando si dice il vapore che ti ha posto lei dispiace se non lo è meglio ma il mio No, no, no.